Rieccoci in studio, grazie per l'attesa e soprattutto grazie di essere qui a Paolo Perazzolo, caporedattore di Famiglia Cristiana per le News. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a lei per essere qui e per illustrarci questa storia di copertina in cui si pensa alle vacanze, chiaramente. Periodo di vacanze, ahimè, il nostro titolo è Carissima Vacanza, ma credo che tutte le famiglie che ci stanno ascoltando sappiano bene di che cosa stiamo parlando. Nel momento in cui siamo andati a programmare la nostra vacanza per notare qualcosa, ci siamo accorti che i prezzi sono veramente saliti alle stelle. Noi qui portiamo dei dati che ci sono stati forniti da Feder Consumatori, sono dei dati abbastanza impressionanti. Una vacanza al mare costa rispetto all'anno scorso 835 euro in più per una famiglia tipo. In montagna va un pochino meglio, ma sono sempre 350 euro in più. Gli alberghi l'8% in più, bed and breakfast 25% in più, gli aerei un 35% in più. Per cui, ahimè, è carissima vacanza. E allora cosa abbiamo cercato di fare? Oltre a raccontare e documentare questo aumento, con tutti i dati dimostrati dall'associazione, siamo andati a capire come si può in qualche modo ridurre i danni, come si può in qualche modo risparmiare sentendo degli esperti. Eh sì, insomma proteggersi un po' da questo caro prezzo. Limitare i danni, no? Perché la vacanza la vogliamo fare tutti. Alcune famiglie qui raccontano che hanno ridotto i giorni, però come si può fare? Ecco, velocemente qualche consiglio. Se qualcuno deve prendere l'aereo, prendere non un volo diretto, ma con lo scalo. Si perde qualche ora in più, ma risparmio è importante. E già questo non l'ho fatto. Vediamo tutto quello che... Se avete un ombrellone, preso un ombrellone e vi dicono che dovete pranzare al bar o al ristorante, sappiate che non è vero. Anzi, per legge siete liberi di portarvi la focaccia, la pasta asciutta, la pasta fredda, quello che volete, sotto l'ombrellone e pranzare lì. Quindi anche questa è un'altra cosa molto importante. Un altro consiglio molto utile è per chi sta ancora progettando la sua settimana di vacanza. Non puntate sulle località rinomate, con questi nomi altisonanti, perché chiaramente sono le più care. Potete andare comunque in dei posti bellissimi, che magari sono a 1, 2, 3, 4 km, comunque molto vicine a queste località. Godete di tutti i vantaggi, lo stesso paesaggio, però spendendo cifre molto molto più basse e quindi salvate in qualche modo la vostra vacanza. Ebbè già, anche questo è un modo per proteggerci un po' da questo caro Prezia e poi fare delle vacanze migliori perché ci rimane in tasca qualcosina da spendere. Purtroppo non abbiamo fondi limitati, nessuno di noi, per cui bisogna fare la vacanza perché è un momento anche importante per la famiglia. Concedersi qualche giorno di relax con il proprio partner, con i propri figli. Però quest'anno bisogna stare un pochino attenti. Allora quindi queste cifre le prenderemo non soltanto come dati di informazione, ma anche con la parte dei consigli per fare dei vacanze un pochino più low cost. Nel mentre ci spostiamo, cambiamo argomento, parliamo di pace e di vie del dialogo, perché anche di questo si è trattato nel nuovo numero di famiglia cristiana. Esatto, abbiamo un nostro inviato che è stato in Terra Santa, ha intervistato il patriarca Pizzaballa, una figura come sapete molto importante. E naturalmente il colloquio che tocca tantissimi temi però è finito ad affrontare il tema fondamentale, la pace. Avete visto le cronache di questi giorni, i continui attacchi da una parte e dall'altra, feriti, morti. Una situazione incancrenita che sembra non risolversi mai. Allora Pizzaballa fa una considerazione di estrema saggezza, che può sembrare semplicistica, ma è il fondamento da cui partire. Cioè finché Israele e Palestina non si riconosceranno a vicenda, non sarà possibile nessuna pace. Perché il dialogo nasce soltanto nel momento in cui io riconosco l'interlocutore come tale, come una persona con cui posso dialogare e cercare una mediazione. Se uno comincia a dire no, io non riconosco te, non esiste nemmeno la possibilità del dialogo. Di conseguenza la pace si allontana con i risultati terribili che vediamo nelle cronache tutte le settimane. Assolutamente sì. Come sempre voi sapete che noi ci spostiamo da un argomento all'altro perché facciamo un viaggio all'interno del nuovo numero. Quindi tocchiamo vari argomenti e facciamo una strada, che è la strada del vino questa settimana. Famiglia Cristiana ogni estate fa una serie estiva dedicata a un tema che poi sviluppa attraverso una serie di puntate. Questa volta sono otto e abbiamo pensato alle strade del vino. Partiamo dal nord-est, poi andremo giù attraversando tutta l'Italia fino alla Sicilia. E partiamo da una strada molto bella che è quella dell'Alto Adige dove nascono dei vini buoni. È un po' il regno dei vini freschi, fruttati, il Wurzahminer per dirne uno. Ed è il vino però è un punto di partenza per raccontare non soltanto la produzione del vino ma un paesaggio. Vedete in queste foto meravigliosi, i vigneti, le colline, poi troviamo i laghi, troviamo i fumi a seconda del luogo in cui ci troviamo. Facciamo raccontare questa storia delle aziende che sono quasi sempre familiari. E questo è un altro elemento molto interessante parlando del vino. Si ha sempre a che fare con un'imprenditoria che ha una radice familiare. Anche questo è molto interessante. E da lì poi si esplora completamente il paesaggio che vuol dire architetture, vuol dire opere d'arte, vuol dire santuari, vuol dire abbazie. Quindi il vino è un po' un grimaldello per entrare in un mondo, esplorarlo e raccontarlo ai nostri lettori. E voi avete messo parola d'ordine, eleganza e qualità. Chiunque sia stato in Alto Adige sa di che cosa stiamo parlando. L'eleganza la si ritrova dappertutto perché c'è una cura del dettaglio enorme. Che si parli dell'ospitalità, che si parli appunto dei vigneti, del paesaggio, che si tratti di come conservano e promuovano le loro opere d'arte. C'è l'eleganza. La qualità perché chi leggerà queste pagine sentirà le storie di queste aziende familiari, vedrà come si punta a migliorare sempre di più la qualità del prodotto che viene offerta. E non a caso ci sono importantissimi riconoscimenti che stanno arrivando anche a livello internazionale per i vini prodotti in questo territorio. E poi parliamo di Vivaldi. Vivaldi è uno di noi, dice Piovani. Abbiamo intervistato questo straordinario musicista che è Nicola Piovani. Vi ricorderete il premio Oscar con La vita è bella di Benigni, ma centinaia di colonne sonore scritte per i più grandi registi italiani. La novità è che ha prodotto appunto una nuova opera da lui composta, ispirata a Vivaldi, a dei concerti di Vivaldi, in cui è molto forte il tema della natura. Questa intervista è molto bella, la raccomando, perché oltre al lato musicale, artistico, professionale, c'è anche il lato umano un pochino più inedito, un pochino più sconosciuto di Piovani. Per esempio a un certo punto gli chiedono le dispiace che i suoi figli non abbiano seguito la sua carriera. Lui dice no, anzi il contrario. E come mai? Perché se avessero fatto musica come me sarei stato probabilmente un padre più fastidioso, più invadente. Invece così si sono fatti la loro carriera in autonomia. Quando ci troviamo insieme, chiarichieriamo di tutto, uno studiato fisico, l'altro studiato ingegneria, ed è una situazione di libertà e di serenità maggiore. Ecco, tra le cose che abbiamo avuto modo di imparare su di lui, che lui rimpiange di non aver imparato l'inglese, beh, sono un artista di calibro così internazionale. Sembra incredibile che un artista che ha lavorato tantissimo per l'estero non sappia l'inglese o non lo sappia almeno bene. Sarebbe curioso sapere, ecco, questo noi abbiamo chiesto alla prossima intervista quando è andato a ritirare l'Oscar, come ha fatto. Ma quello un po' l'abbiamo visto perché diciamo che la cosa che gli va tanto riconosciuta di aver portato con la colonna sonora di La vita è bella non sono un po' di italianità ma anche un lato che pochi conoscono, che è un genere, quel genere di musica. Noi ci aspettiamo tutto delle rock star internazionali. La musica del Piovani ha questo intreccio abbastanza inimitabile, forse soltanto Morricone, l'altro grandissimo maestro, sapeva fare musica di questo tipo in cui c'è la componente più aulica, che è un po' quella della lirica, dell'opera, che si interseca però con la musica popolare. E dall'incontro fra questi due generi nasce qualcosa di bellissimo e come osservavi tu di molto italiano, anche molto nostro, che ci ha fatto conoscere all'estero per una volta in maniera positiva, non negativa. Eh sì, e lui sarà tra gli ospiti dell'Emilia Romagna Filfestio e quindi comunque ci riporta anche un po' all'occhio sempre che mantenete sulla Romagna in questo momento. Cioè, infatti parliamo anche della Romagna con lui perché, come dicevo, il tema centrale di queste opere ispirate a Vivaldi è la natura e quindi si arriva a parlare dell'alluvione e lui ricorda molto semplicemente che la natura ci aveva mandato tanti avvisi. Siamo stati noi uomini a trascurarli e non dare retta e la speranza che anche la sua opera aiuti in qualche modo a risvegliare le nostre coscienze. Ecco, allora noi sicuramente traiamo questo insegnamento dal grande artiste, ringraziamo Paolo Perazzolo, caporedattore di Famiglia Cristiana, grazie. Grazie a voi. Un saluto a tutta la redazione, grazie a voi per averci seguito, ci vediamo domani alle 13 con Metropolis, buon proseguimento, ciao. Grazie a voi.